Un convegno importante, quello promosso nella 21esima conferenza nazionale AIOM, che si occupa di qualità di vita del paziente. Carmi Repinto, perché è importante questo tema e perché è importante che AIOM abbia dedicato un convegno proprio a questo argomento? AIOM non da oggi è impegnato in questo ambito. AIOM è stata tra le prime a livello europeo a tradurre i questionari americani, a validarli, ad avere dei gruppi di lavoro impegnati su questo. Noi riteniamo che oggi diamo più vite ai pazienti, abbiamo trattamenti estremamente efficaci e clonicizziamo, ma alla quantità va aggiunta anche una qualità di vita, ma la qualità di vita bisogna misurarla e bisogna misurare con dei dati che ci vengono dai pazienti. Quindi avere oggi questa conferenza di AIOM sui PROS e dare gli strumenti interpretativi per poter misurare la qualità di vita, la sintoticità, la gestione dei trattamenti dei nostri malati. L'abbiamo fatto vedere, abbiamo molteplici questionari, cambiano delle diverse patologie. Dobbiamo uscire, tra virgolette, dalla clinica, legata soltanto alle sperimentazioni. Dobbiamo rendere questo strumento applicabile in pratica clinica, ma soprattutto deve cambiare la cultura e diffondersi questa cultura nel mondo dell'oncologia, perché 30 anni fa, 40 anni fa, prolungavamo la vita. Oggi clonicizziamo molte malattie, dobbiamo ricepire i pazienti come vivono la loro malattia, ma come vivono la malattia che diventa cronaca, una malattia avanzata che diventa cronaca. Quindi dobbiamo portare questi elementi nei nostri reparti. Ed è stato fatto vedere molto bene l'avere la possibilità di valutare, ad esempio, come un farmaco possa alterare, nel termine di astenia, di fatigue, di dolore, la qualità di vita del paziente. Avere questo dato in tempo reale, nel momento in cui visitiamo questo paziente nel nostro ambulatorio, ci può cambiare l'approccio e quindi migliorare la compliance al trattamento e chiaramente anche l'efficacia stessa.